Benvenuti su Fisio Social, nel video di oggi ti andrò a parlare delle contratture al trapezio quindi in questa zona perché la maggior parte delle persone ha contratture in questa zona ti lascio qui una fotografia del trapezio quindi è questo muscolo che può dare contratture a livello del collo a livello della base del collo, tra le scapole e anche un pochettino più in basso quindi prima di cominciare due parole e poi partiamo con la parte pratica se non mi conosci io sono Francesco Lanzini, sono un fisioterapista e il mio lavoro è aiutare più persone possibile a vincere i dolori muscoloscheletrici e lo faccio tutti i giorni tramite percorsi personalizzati online e anche tramite visite qui nel nostro studio a Milano dove mi trovo ora per intraprendere un percorso personalizzato visto che i video che facciamo su YouTube danno esercizi generici e per ottenere dei risultati concreti e significativi e duraturi serve un percorso personalizzato su quello che è il tuo singolo caso quello che devi fare è inviare una candidatura, link qua sotto e potrai essere seguito personalmente da me o da Klaus quindi partiamo con il video di oggi le contratture sono delle condizioni che possono essere in alcuni casi dolorose e in altri casi no in cui il muscolo, le fibre muscolari invece che essere distese rimangono involontariamente contratte e le contratture possono essere influenzate da diversi fattori mancanza di movimento in primis perché il nostro corpo è fatto per muoversi se stiamo tante ore seduti avremo un aumento delle contratture muscolari numero due una postura singola mantenuta per tante ore quindi se stiamo tante ore fermi in una singola posizione aumenta la rigidità terzo punto una questione genetica ci sono alcune persone che sono più portate ad avere contratture rispetto che altre altre problematiche come per esempio ipertifosi, scoliosi problematiche legate a quella che è la nostra postura ma che è più di natura congenita nasciamo con alcune caratteristiche che possono portarci più contratture rispetto ad altre e un quinto punto secondo me interessante è la somatizzazione dello stress infatti se stiamo molto tempo preoccupati, ansiosi per qualche particolare situazione non è il punto che si contrae molto di più è proprio il nostro trapezio ok? e quindi sarà molto più facile che se siamo preoccupati la tensione si vada ad accumulare qui piuttosto che nella gamba o nel piede quindi partiamo con quello che si può fare all'atto pratico per diminuire le contratture al trapezio consiglio numero uno utilizzare in pacchi di caldo infatti è stato detto che il caldo se applicato su una contrattura può diminuire la contrattura stessa e quindi il consiglio è quello di andare ad applicare a cicli di 10-15 minuti con una pausa di 5 minuti tra un ciclo e l'altro di questi in pacchi caldi che possono essere fatti per esempio con una bull dell'acqua calda fare due o tre cicli e questo già ci può dare una mano a diminuire la tensione attenzione ovviamente che non deve essere troppo caldo e non bisogna scottarsi però lo dico perché può succedere anche questo consiglio numero due puoi prendere una pallina e provare a fare alcuni esercizi per riuscire a diminuire queste contratture ti faccio vedere quindi vai a metterti contro al muro posizioni la pallina a livello del punto in cui senti rigidità e puoi banalmente spingere posteriormente e rimanere lì io ho già beccato un punto quindi ti do un indizio ti lascio qui una fotografia della scapola se tu ti metti lateralmente all'angolo inferiore della scapola lì ci sarà un punto che molto spesso si va a contrarre quello può essere un buon punto dove posizionare la tua pallina quindi vai ok e comunque andando a lavorare i diversi punti contratti del nostro trapezio riusciamo ad ottenere una maggiore salute del trapezio ok quindi dovremo sì andare a togliere la contrattura e poi però dovremo anche andare a fare degli esercizi di rinforzo perché il rinforzo migliora la perfusione sanguigna e ha soprattutto allungamento ora oltre a spingere posteriormente sto facendo dei movimenti laterolaterali quindi mi muovo di lato e sento che comunque sto avendo del beneficio ok poi pian piano mi sposto al lato un po' superiormente e vado ok ovviamente poi mi posso spostare un po' più in alto e anche qui lo faccio laterolateralmente molto bene dopodiché se voglio posso anche continuare a spingere posteriormente ad aiutarmi con le mani andare a fare anche dei movimenti su e giù questo esercizio lo posso fare anche da sdraiato su una superficie un pochino dura in modo che questo mi permetta di andare a sciogliere le contratture quindi posso farlo sia mantenendo la pallina ferma spingendo posteriormente movimenti supero inferiori movimenti laterolaterali ok questo esercizio posso farlo tranquillamente anche per un 10-15 minuti poi passiamo alla fase più pratica di esercizi quindi andiamo a vedere tre esercizi di rinforzo del trapezio il nostro trapezio ha tre fasci fascio superiore fascio medio e fascio inferiore e avrai la fortuna di del fatto che io ti spieghi tutti e tre i rinforzi quindi vediamo rinforzo del fascio superiore che si vede fare anche molto in palestra con dei bei pesi in mano ok io lo faccio senza pesi per farti vedere il movimento avvicino semplicemente le spalle alle orecchie spingo verso l'alto e giù spingo verso l'alto e giù spingo verso l'alto e giù il mio consiglio qua è di farlo tranquillamente anche con un pesetto un chilo, due chili, cinque chili comunque puoi cominciare con il peso più basso però puoi tranquillamente farlo perché è un muscolo forte e non ci sono grossi problemi secondo esercizio andiamo a rinforzare il fascio medio quindi mi metto a pancia in giù faccio vedere da questo lato quello che vado a fare è andare a portare verso l'alto il mio braccio la spalla è bassa e ritorno giù qui se vuoi puoi anche prendere un pesetto da 0,5 o 1 chilo quindi vado, porto su e ritorno vado, porto su e ritorno questo esercizio in tutti e tre i fasci lo posso fare per 10 volte per 4 serie poi andiamo a rinforzare il fascio inferiore quello un po' più duro e un po' più controintuitivo braccia, lo faccio vedere con entrambe le braccia pollici verso l'alto e vado a portare un pochino verso l'alto i miei pollici sentirò che la parte bassa del trapezio si attiva ok? quindi vado 1-2 secondi rimango e ritorno 1-2 secondi rimango e ritorno anche qui per le persone un po' più forti ma vi assicuro che già 0,5 chili o 1 chilo è un bel peso per questo esercizio perché è un muscolo piccolo che fatica molto quindi puoi partire benissimo senza peso anche qui 10 volte per 4 serie molto bene, siamo quasi alla fine di questo video a questo punto ti farò vedere due esercizi di allungamento del nostro trapezio quindi andiamo a fare la prima versione lo faccio vedere di lato vado a mantenere le spalle basse incrocio le mani porto dietro alla nuca e semplicemente spingo verso il basso avvicino il mento al collo quindi mi abbasso tengo un bel po' di tensione sento che tira qui e faccio questa posizione per 30 secondi per 4 serie ok? se per te è troppo diminuisci la tensione, diminuisci i secondi e togli anche una serie ok? quindi questo è il primo allungamento il secondo allungamento spalle basse e vado semplicemente a inclinare dal lato opposto io qui sento una bella tensione spalla bassa, spalla bassa anche qui 30 secondi per 4 serie se è troppo diminuisco i secondi diminuisco le serie quindi spero che questo video per vincere le contratture muscolari ti sia stato utile ti ricordo che se tra le tue cause di contrattura muscolare c'è anche la condizione di tensione psicologica è importante andare a lavorare anche su quella perché se la contrattura viene per una condizione di tensione psicologica hai voglia a fare gli esercizi e fare gli esercizi con la pallina non ti serviranno devi riuscire a lavorare anche sulla questione psicologica quindi lavora sul corpo lavora sulla mente questi erano i consigli per il video di oggi ti ricordo di iscriverti al canale lasciarci un bel like e se ti è piaciuto questo video e vuoi essere seguito personalmente da noi tutte le indicazioni sono qua sotto ci vediamo alla prossima